Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di albicocche. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti. Gli ingredienti sono uova, zucchero, yogurt all'albicocca, farina doppio zero, fecola di patate, lievito per dolci, essenza di vaniglia, zucchero di canna e albicocche snacciolate. Mettiamo il via alla ricetta. Iniziamo subito mettendo nel boccale la farfalla. Mettiamo le uova, aggiungiamo lo zucchero e montiamo il tutto per 10 minuti a velocità 4. Adesso aggiungiamo la farina. una fecola di patate, il lievito per dolci, la nostra essenza di vaniglia, e infine lo yogurt all'albicocca. e amalgamiamo il tutto per 2 minuti a velocità 4. Il nostro impasto è pronto, andiamo a versarlo in una tortiera a cerniera. Dopo aver riempito il nostro stampo con l'impasto, andiamo a posizionare le albicocche e a spolverizzare lo zucchero di canna di sopra. Adesso riporiamo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti. Torta di albicocche. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!